Questo programma è offerto da Centro Sportivo Football 24 Un'oasi sportiva immersa nella città Le previsioni del tempo per la provincia di Messina Oggi mercoledì 22 gennaio Cielo in prevalenza sereno per l'intera giornata Le temperature oscilleranno tra i 12 e i 16 gradi I venti soffriranno deboli da sud-sud-est Sul versante tirrenico e su quello ionico I mari poco mosso sia il tirreno che lo ionio Grazie per la visione Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!